Importante sentenza a favore del comune di Francavilla Fontana pronunciata dalla Corte d'Appello di Lecce in una causa civile promossa da una residente infortunata a causa di una rovinosa caduta. I fatti risalgono all'agosto del 2008. Secondo una ricostruzione, mentre la signora scendeva da un macciapiede di via Rilla cadeva al suolo a causa di una buca non visibile. A sostegno di questa tesi sono state portate nel primo grado di giudizio numerose testimonianze da parte dei cittadini che hanno assistito all'incidente. Il Tribunale di Brindisi, sulla base della documentazione fotografica ma anche sulla base delle testimonianze, condannò il comune di Francavilla Fontana a risarcire la donna con un importo di circa 6.000 euro. A seguito del ricorso in appello del comune, a distanza di quasi 13 anni dai fatti, è arrivata una sentenza che ribalta totalmente la decisione assunta nel primo grado di giudizio. Secondo i giudici, la dinamica rappresentata non può ritenersi approvata perché la situazione di pericolo era, a quanto prevedibile, percepibile, prestando un minimo grado di attenzione. Al contrario, la signora, pur essendo di giovane età, secondo i giudici, non ha usato le misure di cautela necessarie per affrontare in sicurezza un qualsiasi percorso stradale. La corsa d'appello ha così condannato la donna a risarcire le spese processuali ed ha assolto il comune da ogni responsabilità circa quanto accaduto. Per l'assessore Nicola Lonocce questa sentenza porrà un freno a numerosi contenziosi.